Dopodiché, dal punto di vista della rappresentanza, io non rappresento nessuno se non tutte le persone che ci sono qui oggi. Quindi tutti insieme, se abbiamo voglia di fare un certo tipo di lavoro, certo. Però la rappresentanza, quella dall'alto, del classico leader di partito, eccetera, eccetera, non la potete trovare in me. Mi dispiace perché non mi sento leader di niente di nessuno. Qui stiamo proponendo proprio tutt'altro tipo di dinamica. Se cade il governo, lei non... Non ci ricandidiamo, non abbiamo velleità di partite. Stiamo facendo tutto un altro tipo di lavoro. Il lavoro che vogliamo fare qua è proprio ritornare alla comunità locale, capito. A intessere dei rapporti tra persone, ecco perché abbiamo voluto rincontrarci dopo tanti mesi che non ci vedavamo, anche se non ci conosciamo. Però proprio la volontà di ricreare quelle comunità locali che si possono dare una mano, che vogliono tornare ad autodeterminarsi. Se io voglio di fare qualcosa nel mio comune, devono passare attraverso, tra virgoletti, il mio cadavere. O comunque il cadavere di tanti che comunque difendono il mio territorio, difendono il bambino che non deve essere portato via, difendono... Una democrazia diretta e territoriale. Una democrazia diretta ma locale, territoriale. Tutto lì, ecco, questo. Questo è quello che vogliamo fare, ma non ci sarà sala o pugnale. Ci saranno tante persone che difenderanno il territorio. Questo è quello che noi proponiamo. Ok, io c'è una domanda prima che vai via. Un risveglio di coscienza. Assolutamente. Grazie.